Il calendario storico 2019 dell'arma è stato presentato anche a Napoli nella caserma Pastrengo, sede del comando provinciale, dal colonnello Ubaldo del Monaco, comandante provinciale dei Carabinieri di Napoli. Nato nel 1928 era ormai un oggetto di culto il calendario dei Carabinieri con una tiratura che sfiora da anni il milione e mezzo di coppie. Un prodotto editoriale ambito e presente nelle case di molte famiglie e nei luoghi di lavoro, dopo una parentesi di interruzione tra il 1945 e il 1949, il calendario tornò a vivere nel 1950 e da allora tanti temi sono stati trattati vicini all'arma, ma anche ai cittadini. È stato raccontato durante la conferenza stampa l'edizione 2019 del calendario è stata dedicata alla ricorrenza dei 40 anni dall'inserimento del primo sito italiano nel patrimonio mondiale dell'umanità e, parallelamente, dei 50 anni dall'avvento dei Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale. Le tavole del calendario, ideate e realizzate sotto la direzione artistica di Silvia Di Paolo, sono state presentate alla stampa dall'accomandante del Monaco. Le pagine del calendario presentano una carrellata dei siti italiani tutelati dall'UNESCO, inseriti con immagini o menzioni tali da fornire una visione complessiva della varietà di scenari della nostra penisola. I volti principalmente, il volto che è lo specchio dell'anima, si fondono con le immagini dei luoghi del paesaggio italiano, appunto dicevo dei luoghi e dei siti che fanno parte e sono protetti dall'UNESCO e sono ben 54. È una fusione, io dico, perfettamente riuscita perché noi siamo e ci sentiamo parte integrante del paesaggio italiano inteso come identità nazionale.